Oggi andiamo a bloccare un po' di gente per strada e vediamo che succede. Oggi siamo con Sayah de Gataia, nonché il figlio di zio Faraone. Perfetto, perfetto. Allora, oggi ti faccio vedere queste immagini e tu in 15 secondi devi trovare l'intruso. Ok. Vai. Partito il tempo. Non c'è. Non c'è, no, c'è l'intruso, ti assicuro che c'è l'intruso. È ancora 9 secondi. Manca poco. Non trova. Non trova l'intruso. La nonna. Niente, è scaduto il tempo. Nel prossimo video vedrai dov'è l'intruso e la soluzione. Ok. E oggi siamo con... Jean-Claude. Perfetto, allora hai 15 secondi per trovare questo intruso. Va bene. Vai. Allora, l'intruso è questo. Eh, no. No, ho sbagliato. Ok, c'è ancora tempo? Eh sì, sì, vai, vai, vai. C'è ancora un altro po' di secondi. Oh, forse lui? No. Non c'è sta. Oddio. È abbastanza difficile questo, eh. Sì, io lo vedo, però... Eh, tu lo vedi perché lo sai. Perfetto, comunque il tempo è scaduto. Ok, è scaduto, ho perso. Vabbè, sarà per la prossima volta, grazie. Ciao, ragazzi. Oggi siamo con... Cristina Ditella. Ciao Cristina, allora adesso io ti faccio vedere un'immagine e tu devi trovare l'intruso. Ci sei? Ok, vai. Hai 15 secondi. Vai. Oddio. Cominciamo già male. Eccolo. Hai trovato qui? Sì. Perfetto, hai indovinato. La prima persona di oggi che indovina. Perfetto, complimenti. Grazie mille. Oggi siamo con... Marianna. Perfetto, ciao Marianna. Ciao. Hai 15 secondi per trovare l'intruso in questa immagine. Vai. Eh, è un po' complicata questa. Sono tutti uguali. Sembrano tutti uguali, ma uno è diverso. Hai ancora qualche secondo. No, mi sembra una... No, no. Il tempo comunque è terminato. E purtroppo è finita così. Nel prossimo video trovate la soluzione. E oggi siamo con... Bradiniro, 25enne stagionato. Perfetto. Allora, hai 15 secondi per trovare l'intruso nell'immagine che adesso ti mostro. Va bene, Carlo. Vai. Hai 15 secondi. Allora, questo, quello, questo qua. Questo mi piace. Eh no, quello non è. Non è. Sta un po' più in alto. Più in alto. Quindi qui. Eh no, un po' più in alto sta. Qui. A destra di quello? A destra qua. Eh, esatto, questo qua. Eh. Hai trovato, hai indovinato. Non lo so io. Complimenti. Non fregni, dai. Oggi siamo con... Michele. Ok, ciao Michele. Hai 15 secondi per trovare l'intruso in questa immagine. Ok. Vai. Ma lo sto? Eh, questo è difficile. Ce ne stanno un sacco qua. Quindi è complicato. Sta per scadere. E' scaduto. E' scaduto il tempo. Perfetto. Non l'ho trovato. Vabbè, ci ha provato. Grazie lo stesso. A posto. Oggi siamo con... Rebecca. Ok, ciao Rebecca. Hai 15 secondi per trovare l'intruso in questa immagine. Vai. Questo è complicato perché stanno da diversi cavalli. Eccolo. Hai indovinato. Perfetto. Bravissimo. E oggi siamo con... Domenico. Ok, ciao Domenico. Hai 15 secondi per trovare l'intruso e l'immagine. Sì, è già sbio. Vai. Eh, un'altra. Eh, ma allargalo, no? Eh, poi puoi allargarla. Puoi cliccare, puoi girarla. Non si gira. Non si gira. Eh, se ne è fatta apposta, no? Mancano pochi secondi. Questo. Eh, no. No. La soluzione era... Eccola qua. Vedi, questa è una ragazza. Ah, sì. Eh, vabbè, ma mi ha messo la lipida. Mi dispiace. Grazie. Grazie a voi. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.